Da domani scatterà in tutto il territorio regionale l'obbligo delle mascherine all'aperto. Chi violerà questa regola sarà sottoposto alle multe previste dai decreti nazionali. L'obbligo della mascherina all'aperto esclude i bambini al di sotto dei 6 anni, i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina, durante l'esercizio dell'attività motoria e o sportiva, e quindi individuale per chi fa per capirci footing o attività individuale da solo, ma l'utilizzo obbligatorio della mascherina all'aperto è un potente strumento di prevenzione per fermare la curva e anche per lanciare un messaggio a tutte e a tutti che dobbiamo seguire delle regole, non per non vivere, ma per invece tornare a vivere in piena serenità e sicurezza tutte e tutti. Questo è un provvedimento sul quale abbiamo ragionato. Non prevediamo in questo momento alcuna forma di contenimento degli orari dei negozi o dei bar o dei pub, perché confidiamo che queste misure di tracciamento nelle scuole, nei drive-in, ci consentiranno, poi vedrete dai dati, noi siamo, ripeto, sotto la media nazionale, di togliere dalla vita sociale coloro che sono positivi e ci auguriamo che l'utilizzo della mascherina all'aperto e al chiuso, peraltro a ora per disposizione nazionale l'utilizzo della mascherina all'aperto già è obbligatorio dopo le 18, ma è di difficile controllo francamente, l'introduzione dell'obbligo della mascherina all'aperto in tutto il territorio del Lazio è una misura di prevenzione che noi facciamo per evitare, come vogliamo evitare, di dover prendere in futuro nuove provvedimenti addirittura più invasivi.